mister alfonso miosi una sconfitta 0 4 che forse non è veritiera su quelli che sono stati i valori in campo perlomeno sulla voglia che la tua squadra vota sì diciamo che abbiamo fatto un'ottima gara sono abbastanza contento perché comunque giocavamo con una squadra che tra le favorite a vincere il campionato mi pare che hanno tre o quattro spagnoli io ho detto ai ragazzi di fare un'ottima prova e di cercare di sbagliare il minimo possibile perché quando giochi con queste squadre quando fai un errore prendi gol paghiamo i primi dieci minuti che abbiamo preso un'espulsione siamo andati subito a cinque falli poi siccome lo sport è fatto sempre di episodi noi sbagliamo due golle prendiamo un palo azione dopo contropiede fallo e prendiamo gol e da lì cambia la partita ovviamente ecco se sei uscito dal campo facendo gli applausi comunque ai tuoi ragazzi hai detto quei primi dieci minuti in cui c'è stata un'espulsione un'espulsione in panchina ma anche un palo di vallecchia se tu tornassi indietro questa partita secondo te con le stesse scelte con gli stessi episodi potrebbe anche cambiare sì perché ripeto dobbiamo essere più cattivi sotto porta con queste squadre devi essere cinico devi difendere bene l'hai visto abbiamo fatto due errori abbiamo preso due gol il portiere loro abbiamo messo il portiere in movimento tiriamo la prende calcia e fa gol a primo tiro del portiere quindi non c'è niente da fare dobbiamo capire pure che esistono giocatori di categorie di fuori categorie e nell'alcamo onestamente ci sono dei giocatori che sono fuori categorie con quale spirito contro l'isola calcio a cinque noi andiamo sempre a onorare la partita perché comunque sia essendo un triangolare perso la prima è già parti svantaggiato andremo a giocare con l'isola magari farò qualche piccolo turnover però giocheremo sempre per vincere anche perché se fai tre punti l'alcamo ne ha tre poi si gioca tutto l'isola ad alcamo penso alla prossima Grazie a tutti.